Arriva la comunicazione da parte del sindaco di Ogliastro Cilento, Michele Appolito, riguardo i due tamponi effettuati nella giornata di ieri nel comune cilentano legato indirettamente anch'esso alle vicende degli ultimi casi di covid nel Cilento. Il risultato dei due tamponi disposti dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASRA è negativo, esito che va a smentire le voci che si sono diffuse tra la popolazione negli ultimi giorni riguardanti dei possibili positivi nel comune Ogliastrese. Il primo cittadino nel comunicato, oltre a portare a conoscenza della popolazione i risultati dei tamponi, invita i cittadini a mantenere alta l'attenzione e a seguire le regole imposte ed inoltre diffida chiunque divulghi notizie infondate riguardanti presunte positività al coronavirus che creino alarmismo e panico tra i cittadini.